Il racconto della vita di Michelangelo e delle forme tratte dal marmo tra Firenze, Roma, città del Vaticano e anche nelle cave di Carrara è Michelangelo infinito, il film prodotto da Sky con Magnitudo Film e con la collaborazione del Consiglio regionale della Toscana Enrico Loverso nei panni di Michelangelo, Ivano Marescotti in quelli di Vasari, nel film in sala dal 27 settembre al 3 ottobre diretto da Emanuele Imbucci che lo ha presentato nel palazzo del Pegaso a Firenze. Michelangelo risulta immortale, le sue opere sono immortali e come tali superano il tempo e arrivano veramente all'infinito quindi ancora oggi siamo qui e queste opere saranno qui dopo di noi a parlare ancora di Michelangelo. Il film, proiettato in anteprima al cinema della Compagnia di Firenze, racconta con tecniche innovative come la decorazione della Cappella Sistina commissionata a Michelangelo da Papa Giulio II sia cambiata nel tempo ed entra tra gli altri luoghi nella Galleria dell'Accademia di Firenze dove è custodito il David, agli Uffizi e a casa Bonarroti. Ritengo che il messaggio che da questo film deve venire è che proprio attraverso la ricerca, la passione, l'applicazione, la sofferenza che Michelangelo ha vissuto in realtà noi in Toscana abbiamo avuto il patrimonio che abbiamo abbiamo il simbolo, l'unico simbolo fra quelli di Firenze realizzati veramente dall'uomo il David che è il prodotto della sua mente. Due anni di lavoro, otto mesi di preproduzione, due mesi di riprese e 200.000 persone coinvolte per un film d'arte che per la prima volta sta in sala per sette giorni consecutivi, fine settimana compreso. Un dialogo e una ricerca di equilibri continui tra l'esigenza di riuscire a impostare un racconto che sia emotivo e di forte impatto visivo ma nello stesso tempo senza mai perdere l'autorevolezza e il rigore filologico. Al regista Emanuele Imbucci e agli altri intervenuti alla presentazione il presidente Gianni ha consegnato il gagliardetto del Pegaso.